In questa lezione vediamo alcuni esempi di esercizi in cui dobbiamo stabilire se due o più vettori siano linearmente indipendenti. Ricordiamo che due o più vettori sono linearmente indipendenti se, scrivendo una combinazione lineare di questi vettori, tale combinazione lineare è uguale a zero, se e solo se sono nulli tutti i coefficienti. Esiste un modo più pratico per stabilire se due o più vettori sono linearmente indipendenti e lo facciamo attraverso le matrici. Nel primo esercizio abbiamo questi tre vettori a, b e c di tre componenti e possiamo scrivere la matrice M che ha sulla prima riga le componenti del primo vettore, seconda riga le componenti del secondo vettore, terza riga le componenti del terzo vettore. Se il determinante della matrice M è uguale a zero, allora concludiamo che i vettori sono linearmente dipendenti. Se il determinante è diverso da zero, concludiamo che i vettori sono linearmente indipendenti. Se calcoliamo il determinante della matrice M, troviamo che determinante è 29. 29 è un numero diverso da zero, quindi concludiamo che i vettori A, B e C sono linearmente indipendenti. Prendiamo adesso altri due vettori A e B. Come prima, scriviamo la matrice N, N, le cui righe corrispondono alle componenti dei vettori 1, meno 2, 1, 2, meno 4, 2. La matrice N non è una matrice quadrata, quindi non ha senso calcolare il determinante. Ci basiamo sulla caratteristica. Se la caratteristica della matrice N è uguale al numero di vettori, di vettori, allora concludiamo che i vettori sono linearmente indipendenti. Se la caratteristica di N è minore del numero di vettori, concludiamo che sono linearmente dipendenti. La caratteristica di N è uguale a 1 perché la seconda riga è il doppio della prima, quindi le due righe sono proporzionali. Questo ci permette di concludere che non esiste una sottomatrice quadrata di N con determinante diverso da zero. Siccome 1 è minore del numero di vettori, sono due, concludiamo che in questo caso i vettori A e B sono linearmente dipendenti. Quando noi abbiamo quattro vettori in tre dimensioni e andiamo a costruire la matrice P, sicuramente possiamo concludere che questi quattro vettori sono linearmente dipendenti. Perché? Perché la caratteristica massima di P è sicuramente inferiore al numero di vettori che è quattro, perché la caratteristica massima possibile di questa matrice P è tre, ma il numero di vettori è quattro. quindi andiamo a scrivere che il vettore V di componenti 1, 2, 1, il vettore U di componenti 1, 1, 3, il vettore W di componenti 3, 4, meno 1 e il vettore T di componenti meno 2, meno 3 e 4 sono linearmente dipendenti. Vediamo ancora un quarto e ultimo esempio, dove abbiamo due vettori in tre componenti e il vettore Q dipende da un parametro. Andiamo a scrivere la matrice N e stabiliamo la caratteristica della matrice N. Ora, se noi consideriamo la prima colonna e la terza colonna e costruiamo la sottomatrice quadrata formata appunto dalla prima e della terza colonna, osserviamo che il determinante di questa matrice è diverso da zero. Quindi esiste una sottomatrice quadrata della matrice N di ordine 2 che ha determinante diverso da zero, ossia la caratteristica della matrice N è uguale a 2 e 2 è anche il numero dei vettori di cui stiamo stabilendo se sono linearmente dipendenti oppure no. Quindi possiamo concludere che, siccome per ogni valore di K la caratteristica della matrice N è uguale a 2, ossia la caratteristica della matrice N è uguale a 2 ed è uguale al numero di vettori, allora P e Q per ogni valore di K sono linearmente indipendenti.